Dal 1 dicembre al 24 febbraio l'arte della meraviglia si svela a Bergamo. Una selezione esclusiva di opere d'arte vi aspetta nella suggestiva cornice di Palazzo Pollistopani in Città Alta. La mostra è organizzata da Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità Bergamasca. Tutte le informazioni su www.fondazionevergamo.it L'incanto svelato, l'arte della meraviglia da Tiepolo a Manzù. Grazie a tutti.